Mattea, primo giorno a Modena, come ti stai trovando in questa città? Mi sto trovando benissimo come sempre, sì, e niente, sono contenta di essere qua, sono molto contenta. Quando mi ha chiamato a Modena ero molto emozionata per poter venire qua a dare il mio meglio per questa squadra. Giochi come schiacciatrice, trovi Francesca Ficcinini e la tua ex compagna, Elen Russo, cosa ti aspetti? Dovrai lottare con loro ovviamente? Sì, dovrò lottare come sempre, si deve sempre lottare, poi chi giocherà si vedrà, io dovrò il mio meglio. Poi mi aspetto di imparare tanto dalla Francesca Ficcinini e spero mi darà tanto dalle sue esperienze. Cosa ti aspetti dalla squadra e dalle tue compagne? Mi aspetto che arriveremo in alto perché siamo una squadra secondo me forte e niente, comunque si vedrà. Dobbiamo lavorare tanto e bene e se sarà così i risultati non mancheranno.